Ammassati sulla moto vedetta per compiere l'ultimo tratto di mare fino alla terraferma, fino al molo di Lampedusa, porta ad Europa. Sono uomini per lo più giovani, donne e ragazzi che continuano ad arrivare dall'Africa senza che l'Unione abbia trovato un accordo su migranti ed asilo, oggi in discussione a Bruxelles. Sono già 369 migranti giunti sulla più grande isola delle Pelagie nelle ultime 24 ore. Più di 14.000 da gennaio ad oggi sono stati condotti all'hotspot che ne ospitava 380, una parte trasferita in mattinata sulla nave quarantena. Ma ad accoglierli oggi c'è anche una delegazione del Viminale, il sindaco Toto Martello e l'assessore regionale alle autonomie locali Marco Zambuto. Al termine della visita il prefetto Michele Di Bari, capo del Dipartimento delle Libertà Civili e delle Immigrazioni, ha così commentato. Al momento non c'è una criticità. Si sta lavorando bene, alacremente, con responsabilità, con entusiasmo e ovviamente laddove vengono rilevate alcune situazioni vanno risolte. C'è il nodo dei minori non accompagnati e dei soggetti cosiddetti vulnerabili da sciogliere. Il 29% risiede in Sicilia. La delegazione ha intenzione di chiedere la collaborazione delle organizzazioni umanitarie ed internazionali e il supporto della regione. Ma si è parlato anche di gestione dei flussi migratori in vista dell'estate, di lavori per l'ampliamento dell'hotspot e di rafforzamento delle misure di sicurezza. Il sindaco inoltre ha chiesto di riproporre lo stato di calamità naturale per i relitti dei migranti e un rapido smaltimento delle carrette dei profughi, un cimitero della memoria che rischia di inquinare non solo il mare ma anche le coscienze.